Si è temuto del peggio ieri pomeriggio in piano centro storico a Gela a causa dell'improvviso crollo di un balcone di un ufficio in via Marotta, angolo via Sanatore da Maggio, nei pressi dell'Oxospedale Vecchio. Tre le donne rimaste ferite e le loro condizioni fortunatamente non sono gravi. Due di loro erano affacciate sul balcone al primo piano, l'altra era giù quando improvvisamente la lastra di marmo ha ceduto. Sono cadute rovinosamente a terra dopo un volo di qualche metro. Alcune lastre hanno colpito la donna che si trovava in strada. Sono state tutte prontamente soccorse e portate in ospedale. Qualche escurrezione ma tantissimo spavento. Le case vecchie sono, perché la Pangellina era quella che era. Io non pensavo che arriva la Pangellina andando poi, è acceduto. Dicevo mai, si è venuto, ha pezzato sul balcone e ogni tanto ora queste ciamiche le succedo io. Quindi è successo, anche il signore ha dato un po' se. La zona è stata transennata dai vigili urbani e i vigili del fuoco hanno lavorato alacremente per mettere in sicurezza l'immobile. Strutturalmente la base, sia la base di marmo che è molto pesante, ha uno spessore consistente, sia le lastre che tenevano in verro che tenevano vetus e quindi col peso delle persone che si sono affacciate. Sono numerosi gli edifici in centro storico che presentano crepe ovunque. Il consiglio dell'ufficiale e dei vigili del fuoco ai residenti. Dovrebbero farlo all'ufficio tecnico, però sappiamo che l'ufficio tecnico è liberato da un carico di lavoro non indifferente. Per il periodo estivo anche noi sappiamo come siamo combinati, però quanto noi possiamo comunque il primo intervento lo facciamo noi. Poi eventualmente facciamo noi la segnalazione all'ufficio tecnico e al comune per i provvedimenti del caso.